Scendendo di categoria, in promozione si registra la brillante vittoria esterna del Castel Termini che passa a Mazzara con la locale mazzarese con il risultato di 1-4. Una vittoria che fa scalare la classifica generale e lo pone in piena zona playoff. Stessa cosa dicasi per l'unità Sesciacca che superando in casa l'ostico ASD Casteldaccia si pone ad un solo punto dai cugini del Castel Termini. Non va bene invece al Camarat che perde il confronto interno con la capolista Folgore ed ai cugini della Gattopardo che escono sconfitti sul campo della città di Casteldaccia. Scendendo in prima categoria, prima sconfitta stagionale per l'Atletico Favara che perde il confronto diretto con l'Atletico Gorgonia e a sua volta riconquista. la vetta solitaria. Con vincente vittoria esterna del Gemini sul campo di Racalmuto contro la locale Libertars che grazie ai tre punti conquistati fa un bel balzo in avanti e raggiunge la seconda posizione. Gli stessi cugini dell'Atletico Favara. Infine vince a Sondirreti il Raffadale 5-0 ed entra nella speciale zona playoff. E adesso concludiamo con la terza categoria che partirà domenica prossima 10 novembre. Sarà formato da 12 squadre questo girone ed avrà una novità. La società Prizzi, provincia di Palermo, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a disputare il campionato di terza categoria proprio in provincia di Agrigento. Parteciperanno al torneo le seguenti squadre, molte sono completamente nuove. L'Atena, Burgio, il Campobello, Cianciana, il Città di Comitini, il Prizzi, il Prosciacca, la Quisquinese e Santa Rosalia, il Reale Unione, Santa Elisabetta, New Entry, Virtus Favara e Bis Ribera.